e allora che dobbiamo fare io devo io devo fare un intro mi fai lavorare non devi fare la cattiva troppo casino ok io vi dico solo questo io vi dico solo questo se oggi ci si mette pure da son a fa casini che se blocca la connessione e ci si mette pure la Roma in negativo con un risultato negativo a sto giro capo me non lo siete giocato a sto giro veramente me sveglio elegante a sto giro veramente veramente c'è Roma Napoli sappiamo in che momento storico andiamo ad affrontare il Napoli ma io voglio cominciare questo contenuto con un dato statistico la Roma negli ultimi quattro incontri o scontri che dir si voglia all'olimpico contro Napoli quattro o tre non mi ricordo già moso scordato ho letto poco fa non ha segnato manco un gol cioè ha sempre fatto zero gol nelle ultime tre quattro partite contro il Napoli in casa all'olimpico e già solo questo mi mette una perché è una costante sta diventando una costante mi mette una paura di quelle clamorose detto questo diamo immediatamente il via alla super sigla ragazzi cioè siamo veramente cioè oggi è 23 dicembre e l'antivigilia di Natale vedete quello che dovete fare non fatemi bestemmiare super sigla quella più bella ammaliante sensuale romanista youtube istica gente smadonnante nonne e cugine natalosa belottosa luca cosa scureggiosa quello che vi pare di youtube Italia e se beccamo tra pochissimo col mio pronostico marcatori e risultato esatto vai fatta la cacca il culo si sciacqua bidibibodibide dai lavati il culo anche tu come me bidibibodibide ve lo dico immediatamente prima di cominciare almeno 5000 mi piace su questo video o in alternativa l'obiettivo iscritti che vi ho messo all'inizio di questo contenuto e la prossima live reaction ve la riporto insieme al buon Fabio approfittate nel lasciare mi piace non costa niente ci mettete in secondo fatelo subito iscriversi e attivare la campanella non costa niente fatelo soprattutto se siete in quella grossa fetta di utenza fidelizzata che segue sempre i nostri video ma che ancora non lo ha fatto se ci seguite se ci volete bene se vi piacciono i nostri contenuti fateci sto regalo di Natale iscrivetevi due canali di calcio e un extra calcio in descrizione o compariranno come sempre qui durante il video vi dico solo che mamma mia ragazzi io lo dico non me ne frega niente vince 2 a 1 la Roma come minuo perdiamo 3 4 a 1 vince 2 a 1 la Roma dice ma insegni mai continui a non segnare no prima o poi in gol almeno bisogna far perdi 2 a 1 no vinciamo 2 a 1 a noi ci segna Bove ci segna Lukaku non so se su calcio Bove perché gioca al posto da quello che ho capito De Pellegrini Lukaku segna e a loro gli segna Ozyman che ogni volta che c'è becca Ergoletto ciò fa sempre ma se non approfittiamo di questa situazione di questo Napoli del 4 a 0 che hanno subito contro Frosinone bisogna passare subito un vantaggio e metterli in difficoltà dal punto di vista psicologico perché se fai passare un vantaggio loro sta partita la perdi tanto a poco non aggiungo altro Daya che sta per cominciare non c'ho non c'ho le forze di dare la forza a loro preoccupante come cosa io solitamente so sempre bello carico so partiti Daya che si comincia attenzione che ha recuperato ma era regolare e gli ha dato fallo eh ma è da solo Lukaku accompagna chi è Karsdorp, Christensen, sono tutti uguali so, defattezze questi ma per chi era sta palla? ma io non ho parole guarda questi passano palloni a casa gente che non esiste gli amici immaginari vedono non lo so guarda eppure sono rossi cioè sono belli accesi a vedere se non è difficile dice c'hai magliette verdi ti confondi co' col campo che co' no ma che è sta rovesciata? mannaggia quel porco quanto spazio glielasci a Mario Rui? ma quanto spazio glielasci a Mario Rui? ma quanto spazio glielasci sulla destra a Politano? ahhh Christensen schifo ben recupero ben recupero di bove 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 luca cuca 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 cu no 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 cincischiacu il tiro ahhh ahhh ha preso la traversa ho detto che segnava ecco che la devo sempre tirare a qualcuno io oh oh il gallo ahhh 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 e quel pallone in mezzo Christensen è tutto fermo ma che occasione e come se l'era dato via Velotti in mezzo non c'era Lukaku ma c'era bove e forse un po' di differenza l'ha fatta lo sai ragazzi che scatto che ha fatto Velotti guarda come gliel'ha messo a mezzo ragazzi bove se l'è mannata morta a bove gliel'ho secciata sto ragazzo gliel'ho secciata guarda quest'altro guarda quest'altro guarda quest'altro guarda quest'altro guarda quest'altro quando lo fai a gol? manco per sbaglio infatti fa schifo sto dì fa schifo sto dì fa schifo sto dì svegliati mannaggia quel porcotti dai grossa tira angolo non c'è niente no non c'è gre mamma mia mamma mia ma chi cazzo l'hai data ma chi cazzo l'hai data andiamo a cagare Beppe no mamma mia hanno fatto tirà primo tiro nello specchio che parla lui Patricio forse il secondo lukaku lukaku non ce la fa perché so dai tiro a giro non va vai grì vai grì e non c'è nessuno mezzo mannaggia quel porco però fermo fermo che deve arriva il faraone ah non è il faraone ma il faraone non sta manca a gioca piglialo 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 mamma mia ha perso una palla da bestemmie che pallaccia di lukaku qua ha sbagliato clamorosamente e far ripartire Politano e Zalewski che si apiglia un cartellino giallo ragazzi ci abbiamo tutta la squadra munita nooo rosso a Politano ah eh di reazione non ci abbiamo sfa... guarda che stamo a fa... aaaaaaah aaaaa tek aaaaaaa aaaaaaaaa siiii siiii penegrini siiii quasi incischiata ma che girata che sei inventato finalmente finalmente besar manca una vita ancora manca una vita corri 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 romelu corri noooo nooo vai romelu Fallo Rosso Beosimene Doppio giallo Rosso Beosimene Doppio giallo In ripartenza In ripartenza Sì Ginocchio Col ginocchio lo tocca E lo ferma Fallo No Se stavo a magna Se stavo a magna L'impossibile ragazzi Attenzione che ci avemo Una prateria Eccoli Eccoli Indica Dai Romelu Dai Romelu Aaaaaah Aaaaaah Due Ro Me Lu Sì 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 Ma è finita Sì 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 Sì